Per chi volesse proseguire con lo studio della numerologia esoterica, ho realizzato questo video, che non è una lezione aggiuntiva, è una, io direi più, una risorsa o una comunicazione per farti conoscere appunto che cosa puoi fare per approfondire questi studi. Intanto puoi andare sul mio sito all'indirizzo numerologiaesoterica.com e lì puoi trovare tanti articoli sulla numerologia e su argomenti che sono correlati e dunque attinenti, complementari alla numerologia. Puoi trovare anche tanto altro materiale, materiali in vendita come libri, videocorsi e anche i tarocchi che ho realizzato appositamente per questa numerologia. Sempre sullo stesso sito puoi trovare anche il programma per fare le mappe. una volta che inserisci la tua data nello spazio apposito, vi infuri una mappa con tutta una serie di numeri e cliccando su ogni immagine corrispondente puoi leggerne i contenuti. Dunque questa, quella mappa è completamente gratuita e la puoi utilizzare per iniziare a fare, a fare esperienza per poi, se vuoi proseguire, puoi anche frequentare i miei corsi. Se vuoi frequentare, se hai l'intenzione di farne una professione, puoi seguire non soltanto i miei corsi ma puoi farti seguire direttamente da me. Ho diversi programmi, diversi corsi che ti possono portare alla qualifica come counselor olistico specializzato appunto in numerologia. Io nei miei corsi utilizzo le mie conoscenze in programmazione neurolinguistica unite a tutte le altre conoscenze su diverse materie che ti permettono di, non soltanto di poter fare delle mappe ma di aiutare concretamente le persone per portarle intanto a vivere una vita migliore ma a ottenere ciò che desiderano e che difficilmente riescono a ottenerlo per diversi motivi. Puoi trovare anche del materiale sul mio canale YouTube all'indirizzo SilverCut Editions. Dunque basta che digiti SilverCut Editions sulla barra di ricerca su YouTube e ti apparirà il mio canale. Lì troverai dei video che ho fatto sui numeri singoli, cioè specifici su ogni numero e poi troverai anche un corso, un videocorso, proprio sulla numerologia esotenica. Seguendomi su YouTube e sul mio sito potrai anche seguirmi e far parte della mia community. Io ho una community dove settimanalmente faccio delle dirette dove continuo ad insegnare, a parlare di numerologia. Continuerò anche a fare video su YouTube, parlerò non soltanto dei numeri, farò anche degli esempi di letture, farò degli esempi su come si fa, come si aiuta una persona, come si fa del counseling, cioè proprio una delle sessioni di coaching per aiutare le persone a uscire fuori da quello stato, quel blocco, quella difficoltà, quella situazione stagnante e poter cambiare la loro vita in meglio. Nei miei corsi, come ho già detto, non insegno soltanto la numerologia. Ti insegno, per esempio, a tenere un blog, a farti un canale YouTube, a promuovirti con i social. Ti insegno a utilizzare l'intelligenza artificiale per produrre contenuti. Ti insegno a utilizzare dei programmi come, per esempio, Canva, per fare le miniature su YouTube, per fare le immagini per Facebook, per Instagram. Insomma, ti insegno a fare tantissime altre cose. Diciamo che la mia formazione è a 360 gradi. Dunque, se hai intenzione di fare qualcosa di professionale, se hai intenzione di buttarti su questa disciplina o su discipline simili e magari vuoi integrare la nomologia esotetica o vuoi semplicemente diventare un counselor o un coach, scrivimi. Quindi, insieme, troveremo il modo, una soluzione, ma potrò anche darti dei consigli per rivolgerti a qualcuno che potrà fare di meglio di ciò che posso fare io. Oggi stiamo assistendo ad una situazione dove le persone non sanno ciò che vogliono. Ci sono persone che hanno difficoltà a fare delle scelte proprio perché non sanno che strada prendere, non sanno dove impegnare le loro energie, non sanno che cosa studiare, a chi rivolgersi. Sono confusi perché comunque abbiamo un panorama di proposte che è vastissimo. Basta entrare su Facebook, su Google, su Instagram, che vediamo tantissime persone e tantissimi argomenti, oggi più che mai, di consigli su come fare le cose, su come fare le cose fatte bene, su come guadagnare, su come migliorare il proprio stato fisico e finanziario. Insomma, abbiamo veramente tanti, tanto, tanto materiale. La difficoltà è nel scegliere con chi fare, scegliere chi seguire, scegliere a chi appoggiarsi. E questo naturalmente è un qualcosa che spetta alla persona. Io personalmente quello che posso dire è seguimi, seguimi gratuitamente, seguimi nel mio sito, seguimi su YouTube, seguimi nella mia community per sentire quello che dico e poi alla fine, quando avrai tutti i dati per te importanti per fare una scelta, se affidarti a me o affidarti ad altri, sarei tu a decidere, sei tu a scegliere quale azione fare. Per adesso quello che mi interessa è che tu possa prendere gratuitamente da me tutto ciò che può essere importante per migliorare la tua vita. Anche se fosse una sola, una sola informazione. Ti lascio comunque tutti i miei dati qualora tu voglia continuare a seguirmi. Ti auguro un buon proseguimento di vita. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.